Ciao ragazzi, siamo qui al Revolver Garage ed oggi andremo ad effettuare una prova fonometrica di un RS125 un gioiellino, lo potete sentire qui dietro le mie spalle, lo vedete anche forse un pochettino e andremo subito ad inquadrarlo da vicino i meccanici del Revolver Garage ci stanno lavorando è una moto che ha il terminale original Aprilia ma ha i collettori un pochino modificati infatti lo vedrete dalle immagini ma prima vi ricordo sempre di iscrivervi al canale, attivare la campanellina e magari puoi commentare e 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 tranquillamente dietro di me andando su di giri la moto andrà un po' più in alto come risposta fotometrica però si può circolare tranquillamente senza incorrere in rischi di multe spero che questo video vi sia piaciuto ricordatevi sempre di commentare mettere un like magari condividere con un po' di amici che hanno la passione delle moto e soprattutto amano o amavano i 125 due tempi e ci vediamo alla prossima ciao e gas ciao